Tizzo Sport di Montesilvano e del sito web abruzzocalcio5.com ad inizio stagione hanno promosso un premio per i migliori capocannonieri e le migliori difese dalla C1 alla Serie D. E la previazione più bella si è svolta nei giorni scorsi presso la casa circondariale di Lanciano, dove il premiato come miglior realizzatore della Serie D è stato Salvatore Junior Fiorillo della Libertas Stanazzo. È stata una bella esperienza per me e per tutti i nostri amici. Quell'oretta eravamo liberi, liberi e spensierati, abbiamo fatto un bellissimo torneo, ci siamo divertiti e spero che il prossimo anno per i miei amici si rifarà di nuovo questa bella esperienza. E questa è la soddisfazione finale del progetto chiamato Mettiamoci in gioco, ideato dalla Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Abruzzo e dalla divisione Calcia 5, in collaborazione con il Ministero della Giustizia, che ha consentito la Libertas Stanazzo, squadra composta dai detenuti della casa circondariale di Lanciano, di disputare il suo primo campionato. Unica prima esperienza di un campionato di calcia 5, unico in Italia e che sicuramente continuerà anche nel prossimo anno. Noi abbiamo avuto il privilegio, l'orgoglio, la soddisfazione, noi a vasto della delegazione, di organizzare e di amministrare questo campionato.